Cercare e scegliere i materiali. Prima di iniziare il tuo lavoro di ricerca, indaga innanzitutto l'argomento centrale del tuo lavoro. Consulta i tuoi libri di testo, ripassa, rileggi, riguarda le pagine che lo riguardano. Elabora quindi un'ipotesi dell'indice della tua tesina. Per quale motivo? Perché in questo modo puoi creare un elenco dei materiali che ti serviranno per approfondire l'argomento centrale del tuo lavoro. A questo punto puoi iniziare il lavoro di ricerca. Dove puoi cercare i tuoi materiali? A tua disposizione hai fonti cartacee come libri scolastici, enciclopedie o riviste tematiche come National Geographic, Istorica, Focus oppure fonti digitali come le enciclopedie online, ad esempio pensiamo alla Treccani, o siti tematici come tuttostoria.net, siti di istituzioni ed enti di ricerca oppure altre pagine web come blog o canali YouTube. In questo caso però ricordati di verificare con attenzione da chi sono stati curati. Meglio se si tratta di insegnanti o di esperti riconosciuti, come Piero Angela in campo storico e scientifico. Lo so, la tentazione di fare ricerche solo in rete è molto forte, perché cercare informazioni in rete può sembrare facile. Lì ci sono moltissimi materiali a disposizione di tutti. Non tutti questi materiali però hanno lo stesso valore. Per ottenere informazioni attendibili hai davanti a te due strade. La prima possibilità è andare direttamente su siti che già conosci, magari perché li hai consultati con i tuoi insegnanti a scuola. Non è facile però ricordare a memoria i nomi e soprattutto gli indirizzi di tutti i siti. Il metodo più comune quindi è utilizzare i motori di ricerca, che sono dei siti che cercano per te tutte le pagine presenti nel web relative al tema che ti interessa. I più utilizzati sono google.com per quanto riguarda i testi e le immagini, oppure youtube.com per i video. Quali strategie è meglio utilizzare per avvalersi di un motore di ricerca? Innanzitutto ricordati che la tua ricerca va fatta per parole chiave. Usa verbi all'infinito oppure nomi. Se inserisci all'interno del motore di ricerca anche i sinonimi delle tue parole chiave, puoi ottenere anche altri siti di uguale interesse che in un primo momento non ti erano stati segnalati. Racchiudendo le tue parole chiave tra virgolette puoi fare ricerche inerenti a intere frasi. Il simbolo più e il simbolo meno invece ti permettono di includere o di escludere dalla tua ricerca tutti quei siti che contengono o che non contengono una parola. Con la ricerca avanzata infine puoi cercare immagini e video. Abbiamo detto prima che non tutti i materiali disponibili in rete sono ugualmente validi e attendibili. Sta a te il compito di valutare attentamente le tue fonti per quanto riguarda la loro attinenza al tema che stai approfondendo e per quanto riguarda soprattutto la loro credibilità in modo da non incorrere in falsità, errori o fastidiosi fake news. Includerli all'interno del tuo lavoro infatti renderebbe tutto il tuo sforzo inutile perché ne minerebbe la credibilità. Per aiutarti in questo compito decisamente complesso ti mettiamo a disposizione una scheda che ti aiuta a valutare l'attendibilità di una fonte web. In questa scheda ti viene suggerito di fare una serie di valutazioni riguardo al sito web che stai consultando ai suoi contenuti. Innanzitutto chiediti se la pagina che stai consultando appartiene ad un ente pubblico o di ricerca accreditato. Verifica la grafia della pagina, la correttezza grammaticale del testo contenuto e il lessico usato dell'autore. Controlla che nelle pagine che consulti sia indicato il nome dell'autore di ogni testo riportato. A questo punto verifica se è possibile ritrovare all'interno della pagina o nel web informazioni in merito a quest'autore. Verifica che il nome inserito sia un nome reale e non un nickname e cerca come dicevamo in rete informazioni per verificare il suo campo di competenza. Per quale motivo? Perché se l'autore del testo è un esperto dell'argomento che devi approfondire. Hai di fronte a te una fonte non solo credibile e attendibile ma anche di grande valore. Verifica a questo punto che le informazioni riportate all'interno del sito web che stai consultando siano presenti anche all'interno di altre fonti digitali o cartacee e che i fatti all'interno della pagina che consulti siano chiaramente distinguibili e separate dalle opinioni dell'autore del testo. Controlla come dicevamo che non ci siano fake news e che il tono dell'intero sito sia sempre pacato e rispettoso. Se sono presenti invece offese o insulti è meglio che eviti di utilizzare quella pagina come fonte. Verifica quindi i materiali aggiuntivi presenti all'interno della pagina come le immagini o come i link. Controlla che la loro funzione non sia colpire l'immaginazione o scioccare l'utente ma semplicemente completare le informazioni riportate all'interno della pagina. Verifica lo scopo del sito che stai consultando e il nome e le credenziali dei suoi autori. Tante informazioni da ricercare vero? Ma non avere paura si tratta solo di fare l'occhio a tutti questi elementi. Con un po' di esercizio ci riuscirai sicuramente anche tu. Infine per quanto riguarda la ricerca dei materiali ti do un suggerimento. Poniti sempre due domande. La prima è e se non trovo quello che cerco? La seconda è e se trovo materiali inaspettati ma decisamente utili? La risposta ad entrambe è sii pronto ad essere flessibile. Preparati a modificare le tue ipotesi iniziali di indice. Ricordi ti abbiamo suggerito di creare appunto un'ipotesi del tuo indice non l'indice definitivo perché l'indice definitivo lo potrai elaborare solo dopo aver raccolto tutti i materiali necessari per il tuo lavoro. Bene ecco tutti i nostri suggerimenti in merito alla consultazione e alla valutazione delle fonti. Ora ti auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo!